Carburante alle stelle, la rabbia di utenti e benzinai, corsa dei prezzi senza freni anche nei distributori lucchesi con benzina e gasolio che superano i 2 euro al litro. Da Paganico fino in Ucraina per consegnare medicinali in due in auto fino al confine con l'Ungheria e al ritorno hanno portato in Italia una famiglia in fuga. Torna la marcia rosa contro i tumori al seno, al Via Domenica dopo due anni di stop la Ego Women Run, la corsa al femminile a sostegno della prevenzione. Lo sport antipasto di lusso al Porta Elisa, Lucchese Reggiana e il ghiotto anticipo di venerdì sera alle 20.30 Pagliuca sceglie Baldanni in difesa e conferma Ruggeri in attacco all'andata agli Emiliani, vincolo 2-0. Ben trovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi, in primo piano di nuovo la guerra, in questo caso le conseguenze della guerra in Ucraina anche sui nostri territori. Il prezzo dei carburanti è salito alle stelle, Virginia Torriani ha fatto una piccola inchiesta nei distributori lucchesi, sentiamo. Prosegue la corsa al rialzo del prezzo del carburante. Benzina e gasolio hanno ampiamente superato la soglia dei 2 euro al litro con il diesel che per la prima volta costa più della verde. Allora il diesel lo vendiamo al servito 2-2-7-9 e la benzina invece 2-1-7-9, poi chiaramente al self-service che facciamo il pomeriggio viene fatto 40 millesimi meno. Per fare il pieno si arriva a spendere anche 30 euro in più rispetto ad un mese fa. Sì ho fatto il pieno ed è allucinante perché ci vogliono quantomeno da 3-70-100 euro dove prima me ne servivano una sessantina. Quindi speriamo tutti che questa situazione si risolva quanto prima perché si può andare avanti così. Diciamo 30 euro mi veniva pieno, ora mi ce ne vuole anche di più. Sulle 60 euro circa. E ora? Ora vediamo. Ora 89, le quotazioni fuori controllo del mercato petrolifero non fanno sconti ai consumatori ma neppure ai distributori che, spiegano, con l'aumento dei prezzi hanno un margine molto più ristretto di guadagno perché da un lato chi fa rifornimento tende a calare i consumi e dall'altro aumenta anche per loro il capitale da tirare fuori per l'acquisto delle cisterne. Noi si guadagna sul litro, quindi che succede? Il margine sul litro è sempre questo, ma se prima con 20 euro che spendeva il consumatore venivano, faccio un esempio, 14 litri, ora ne viene 8 e quindi il nostro guadagno è diminuito. arrivi in fondo alla giornata invece di vendere 4 mila litri e ne vendi 3 mila due e il guadagno è quello lì. In più per acquistare il carburante ci vuole il triplo dei soldi. Speriamo che si fermi qui, che non vadano oltre perché la cosa è diventata veramente insostenibile. Gli aiuti alle persone in difficoltà in Ucraina sono partiti in due da Lucca in auto per consegnare medicinali e al ritorno hanno portato in Italia una famiglia in fuga. Sentiamo. Paganico ha un legame speciale con l'Ucraina. Per anni ha ospitato i bambini figli dei vigili del fuoco che spensero l'incendio alla centrale di Cernobil. È da Paganico che sono partiti Liano Picchi e Sergio Tambellini. Un viaggio attraverso il nord Italia, la Slovenia e l'Ungheria per portare medicinali all'ospedale militare di Lusk, tra Kiev e Leopoli. Un giorno abbiamo contattato i cittadini di Paganico, gli abitanti, si è messo su, anche grazie a un paio di miei amici, 7 mila euro. Poi grazie al farmacista dottor Rossi, presidente dell'ordine, ci ha fatto comprare medicinali che ci servivano, che avevano l'elenco cortisonici, analgesici, antibiotici, quelli di prima necessità e alcuni strumenti per operare al prezzo di costo, quindi abbiamo potuto comprare anche di più. Si è caricato la macchina per intero, fino all'ultimo centimetro cubo, io e il Tambellini e siamo partiti. Picchi e Tambellini sono arrivati fino alla frontiera con l'Ucraina, dove avevano l'appuntamento con altri volontari. Non hanno quindi attraversato zone di guerra, ma hanno comunque visto scene che non dimenticheranno. Queste lunghe code di bambini accompagnati dalle mamme, separazioni tristi tra padri che abbandonavano lì e ritornavano indietro perché loro continuavano il loro servizio militare a svolgerlo e quindi lasciavano. E nel lunghissimo viaggio di ritorno, sette ore di attesa alla frontiera con l'Ungheria, Picchi e Tambellini hanno accompagnato in Italia una famiglia. Noi ci siamo chiesto se si poteva portare gente, abbiamo caricato una mamma con due figli, che ha la nonna di questi, quindi la mamma di lei, fanno la badante a Perugia, e quindi l'abbiamo portata fino a Firenze dove sono venuti a prendere alcuni e li abbiamo lasciati lì. Effettivamente ci ha gratificato anche il ritorno perché almeno si è servita a qualcosa, è una goccia nel mare. A proposito di accoglienza, domenica prossima 11 persone provenienti da Kiev saranno accolte a Coreglia. L'amministrazione comunale ha risposto all'appello e alla richiesta della Prefettura di Lucca e ha dato la propria disponibilità a sistemare sul territorio tre donne e otto ragazzi. Anche il Comune di Capannori sta facendo la sua parte per l'accoglienza dei profughi ucraini e anche per favorire l'ingresso dei bambini e dei ragazzi nelle scuole. Sentiamo l'assessore al Comune di Capannori, Francesco Cecchetti. Come amministrazione comunale abbiamo messo a disposizione un numero a cui è possibile telefonare ogni mattina e anche tre pomeriggi a settimana per le informazioni di orientamento legale riguardo al permesso di soggiorno, riguardo alle comunicazioni da fare con la Prefettura e la Questura e riguardo a tutti i bisogni che queste persone in fuga dalla guerra possono avere in questo momento. Ovviamente, come vediamo anche dai telegiornali e dalla televisione, ci sono anche sul nostro territorio dei bambini in arrivo. Siamo già in contatto con le scuole per facilitare l'ingresso di questi bimbi che tanto hanno sofferto nelle nostre scuole affinché questo passaggio doloroso sia comunque il più sereno possibile. Anche le fondazioni bancarie si mobilitano per l'Ucraina. Sentiamo. Anche le fondazioni Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Lucca hanno aderito all'iniziativa a favore del popolo ucraino dell'Associazione di Fondazioni e Cassa di Risparmio. Il Consiglio di Acre ha deliberato all'unanimità di destinare un contributo straordinario di 2 milioni di euro per il sostegno umanitario alla popolazione ucraina che sta lasciando il Paese a causa del conflitto. Le risorse, a valere sul Fondo Nazionale Iniziative Comuni, andranno a sostenere l'attività di alcune ONG che si sono già mobilitate per l'assistenza ai profughi ucraini. Un primo segnale di vicinanza di fronte ad una situazione imprevedibile e straziante sottolineano le fondazioni bancarie lucchesi, un sostegno concreto a tutte le persone, molte delle quali bambini, che vivono quotidianamente sulla propria pelle e un orrore che tutti ci auguravamo sepolto nelle macerie della storia. La cronaca. Il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, è stato investito da un'auto mentre si stava recando in sella la sua Vespa a Palazzo Orsetti. L'incidente è avvenuto poco prima delle 9 di mattina, quando in via Santa Maria a Corte Orlandini, a pochi metri dal comune dove era diretto per partecipare alla riunione di giunta, è stato travolto per dinamiche in corso di accertamento da una Fiat Panda guidata da una donna ed è caduto a terra. Il primo cittadino è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca per accertamenti, ma fortunatamente le sue condizioni sono buone. E ci sono buone notizie sul fronte del latte sanginese. La cooperativa Arborea ha dato il via libera alla cassa integrazione per i 26 dipendenti, quindi niente più licenziamento collettivo, lo ha comunicato la Regione. Arborea si impegna inoltre all'accessione dell'azienda, mettendo a disposizione anche il marchio sanginese. Ed è emerso che ci sono già alcuni compratori interessati che saranno via via convocati al tavolo regionale per saggiarne le intenzioni. Il quadro dei contagi Covid in Toscana sono 4.134. In nuovi casi il tasso di positività è al 14%. I ricoveri sono 716, quindi sempre in diminuzione, mentre sono stabili le terapie intensive 43. 5 i decessi, nessuno a Lucca. I nuovi contagi a Lucca sono 536, quindi in aumento. Rimaniamo a Lucca. Torna la Ego Women Run, la marcia rosa contro il tumore al seno e i disturbi alimentari. Dopo lo stop di due anni imposto dalla pandemia, torna domenica 20 marzo la sesta edizione dell'Ego Women Run, la corsa podistica non competitiva totalmente al femminile. L'iniziativa, nata otto anni fa da un'idea di Marina Malfatti e Chiara Talini, da sempre mette assieme la passione per lo sport con la prevenzione di due delle più diffuse patologie tra le donne. Nasce dal voler unire il movimento alla prevenzione della sensibilizzazione dei tumori al seno e soprattutto anche negli ultimi anni alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari. Il nostro ricavato di questa marcia non competitiva dove possono partecipare tutti per camminare o correre quello che vogliono è quella di devolvere tutto il ricavato a due associazioni molto importanti sulla nostra città, una è l'associazione Silvana Sciortino e l'altra è l'associazione Lucca Caollus. Il ricavato della venta dei pettorali sarà interamente devoluto alle due associazioni. La partenza della marcia sarà anche l'occasione per inaugurare una nuova panchina rossa a perenne monito contro ogni forma di violenza sulle donne, nel Lego Park, il nuovo spazio verde della storica palestra di Sant'Alessio. Il via è fissato alle ore 9 e possono iscriversi alla corsa tutte le donne, partecipando ognuna con il proprio passo, da sole o in gruppo, accompagnate dai propri bambini in passeggino o dagli amici a quattro zampe al guinzaglio. La cultura ha un volume sul restauro della chiesa di San Michele in Castello. Per salvare e recuperare questa bellissima chiesa, la chiesa di San Michele di Castello in Val di Roggio, si era formato anche un comitato guidato da Monsignor Giuseppe Ghilarducci. Oggi questo luogo di culto è stato messo in sicurezza e si può affermare che la struttura è stata recuperata completamente grazie alle fondazioni bancarie, ma anche alla generosità dei privati cittadini. Per valorizzare e promuovere questo edificio e il suo ruolo nel passato, nel presente e nel futuro, è stato realizzato un piccolo volume che verrà presentato sabato 12 marzo alle 17 nel Salone dell'Arcivescovado alla presenza degli autori e dell'Arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti. Io avevo avuto un incarico da Monsignor Ghilarducci per il restauro e finalmente possiamo festeggiare questo. Proprio, diciamo, alla fine, al termine di questo primo lotto di lavori è stata fatta questa piccola pubblicazione. È una pubblicazione che riguarda la storia dei Castelli di Roggio. È stata fatta insieme alla professoressa Rita Mandoli Camilla Dallan e riporta, diciamo, i momenti di lavoro che hanno portato a vedere risorgere questa bellissima pieve che era completamente abbandonata, ricoperta di edera e di quant'altro. L'edificio in futuro verrà utilizzato come punto di riferimento per eventi culturali anche se al momento si devono ancora recuperare gli spazi che verranno poi utilizzati come camerini per gli artisti. Vista la determinazione del comitato, c'è la certezza che il problema verrà comunque superato a breve. Si è riunita la condotta Slow Food della Mediavalle Garfagnana per eleggere il nuovo fiduciario dopo la scomparsa di Rolando Bellandi. I componenti della condotta hanno eletto all'unanimità il figlio di Rolando, Elso Bellandi, che è anche figlio d'arte, visto che da sempre si occupa della promozione dei prodotti del territorio in piena sintonia con i principi Slow Food. Ci spostiamo a Porcari perché lo stadio di Porcari ospiterà otto gare della Viareggio Cup, il torneo giovanile internazionale di Viareggio. Saranno otto le partite del torneo giovanile di Viareggio che saranno sicuramente ospitate dallo stadio di Porcari. L'annuncio ufficiale l'hanno dato il sindaco Leonardo Fornaciari e il presidente dell'Academy Stefano Silla. Sarà un evento che coinvolgerà tutto il comune, tanto che si prevedono iniziative anche del centro commerciale naturale e dell'associazione Epi Porcari, che gestisce il carnivale porcarese. Nel dettaglio, allo stadio saranno disputate cinque gare della fase a Gironi, la prima il 16 marzo, e saranno coinvolte squadre come il Milan, l'Atalanta e la Fiorentina. Poi Porcari ospiterà un ottavo di finale e, ma ancora non è ufficiale, anche un quarto di finale. Non è finita qui perché l'impianto, gestito dall'Academy, ospiterà anche una semifinale e la finalissima del torneo femminile, che sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. Il bello è che i promotori del torneo avevano offerto a Porcari anche la gara inaugurale e la finale maschile, ma Academy e Comune hanno dovuto declinare l'offerta dati i tempi organizzativi troppo ristretti. Il prossimo anno però sarà diverso. L'anno prossimo vogliamo essere coinvolti pienamente in tutto e per tutto. Per il 2023 e il 2024, dove lo stadio di Viareggio ancora non sarà ascibile, vogliamo essere primi attori e organizzare le cose già da adesso ricominciare per quell'evento. Per il Comune, l'arrivo della Viareggio Cup è il positivo risultato di un impegno iniziato diversi anni fa. Queste sono le potenzialità di questo impianto con gli investimenti che sopra sono stati fatti. L'Academy ha colto questa occasione importante per il Paese che continueremo a coltivare anche per gli anni prossimi affinché questo impianto, che già è, continui ad essere un punto di riferimento per lo sport nella piana. Prima di chiudere vi annuncio che venerdì sera, ospite della trasmissione è venerdì, ci sarà il sindaco di Monte Carlo, Federico Carrara. Ovviamente ci sarà anche la possibilità di inviare domande e commenti tramite sms o whatsapp. È tutto per la prima parte della TG. Ora c'è la pubblicità e subito dopo lo sport. Grazie a tutti.